Ragazzi, fratelli, amici, finalmente Mirko mi ha mandato il pacco da giù, finalmente mi è arrivato il sumazzo, che bello, sono contentissimo, poi non so, ho detto che c'è qualche regalino dentro extra e non vedo l'ora di farvelo vedere, però ovviamente prima di tutto vi ricordo un paio di cose, in bio, Twitch, in più, ovviamente iscrivetevi al canale, Se volete convertire le vostre carte di Yugi, Magic e Pokémon in denaro sonante, qua sotto c'è Instagram, scrivetemi e nel caso un accordo si trova, considerate che più o meno io ritiro di tutto, quindi non fate bene problemi Detto questo io passerò all'opening perché non ho ancora testato con mano i suoi prodotti e sono curioso Bam ragazzi, eccolo qua, guardate che bello, è bellissimo Pure lo scotch brandizzato, cioè, ma che ne sanno i comuni mortali dello scotch brandizzato? Guardate che bello, costa più il packaging che le carte dentro Allora, proviamo a rompere piano piano perché non vorrei rovinare lo scotch, poi non credo sia scotch, scotch veramente scotch brandizzato Vabbè, l'avrà appiccicato con la colla, dai Allora, ragazzi, ne vogliamo parlare della qualità solo della scatola Ok, il pacco sembra un po' danneggiato Quello è colpa delle poste, non sanno fare il loro lavoro Domani denuncino dalle poste, ma me ne assumo la responsabilità Due volte i pacchi non mi sono arrivati Ed è colpa loro, perché una spedizione in posta 1 dopo un mese non può non essere arrivata, nel senso E ancora ovviamente non è arrivata, ma dettagli Vediamo e speriamo di non aver danneggiato l'interno perché sennò sarebbe un po' una merda di situazione Considerate che dovevo andare giù a Romics quest'anno perché c'era pure lui E l'unica cosa è che sono stato questi giorni sdovenia e quindi non si è potuto fare niente Ho tirato fuori tutto Abbiamo qua una spilletta Bellina questa Di Obelisk È in qualità altissima, non come quelle che vi vendono alle fiere Dove l'immagine più a fuoco è in 2,40 Questo è un lavoro fatto bene Poi andiamo a vedere Abbiamo Me l'ha inviata veramente È bellissima L'ho vista e vi giuro che me ne sono innamorato È bellissima Ah forse ho capito qual è quell'altra Ragazzi è incredibile È bellissima La più grande collaborazione di Yu-Gi-Oh Mirko e Yu-Gi-Oh e Malavita Incredibile Sì, sì, sì Guarda Considerate che questa l'ha realizzata per la morte di Kazuki Takashi E Cioè gli ho chiesto proprio di mandarmela E lui già me l'aveva mandata Ma va bene Un fratello E È incredibile È un tributo Veramente bello Allora andiamo un attimo a leggere la descrizione Ha donato infinite gioie a migliori di persone nel mondo Con la sua creatività, la sua arte, la sua voglia di raccontare storie E le proprie passioni attraverso i suoi manga Ha dato vita ad uno dei giochi più belli di sempre Ora consacrato il suo nome alla leggenda E noi porteremo avanti la sua eredità con amore e profondo rispetto Grazie di tutto Devo ammettere di essermi un po' commosso Pochino Puoi pagare metà di tue life points per evocare specialmente questa carta Quando questa carta viene evocata Manda tutte le carte controllate dal tuo avversario Nella sua mano e nel suo deck al cimitero Il tuo avversario non può attivare carte ed effetti risposte all'attivazione di questo effetto Perfetto Vedo che sei nello spirito giusto del gioco Allora Ma comunque vediamo anche come sono fatte queste orga Allora I dettagli sono incredibili Cioè Dal logo che sembra quello ufficiale Konami La scritta Mirko qua su Vabbè Oggettivamente credo siano le migliori orica Che voi potreste trovare in circolazione Sotto tutti i punti di vista Diciamo Io In primis Non sono fan di questo tipo di olografia Lo dico subito Perché ovviamente mi ricordano le vecchie carte tarocche Non ci posso fare niente Mi dispiace E forse la normale è un po' troppo chiara A livello dei colore Però A parte questo E vabbè ragazzi Soinezie Le fa a casa Cioè queste cose Non puoi considerare Se vengono fatte in casa A parte questo Gli artwork sono incredibili Perché comunque Ragazzi Li disegna lui Li disegna lui Sono incredibili Ragazzi Se queste carte fossero stampate come Ovviamente le carte ufficiali Quelle vere Che Tutti usiamo Sarebbero incredibili Non avrebbero un difetto Perché I dettagli Sono curati Nel minimo particolare Gli artwork Sono tutti inediti E In qualità altissima Cioè Di che stiamo a parlare Adesso ragazzi Andiamo a vedere Lo structure deck tool Che Secondo me Qui ci metto la mano sul fuoco Il packaging È la cosa più bella Ragazzi Vi giuro che il packaging È fatto meglio Di quello ufficiale Konami A parte la qualità E i dettagli Che Vabbè Fanno invidia A qualsiasi cosa Nel pratico Non c'è un difetto E poi la cosa bella È che potete aprirlo Senza Distruggere tutto Cosa che Konami Dovrebbe imparare a fare Più che altro Perché io In primis Vorrei Tenere Lo structure Da parte Per Mettermelo dietro Come sfondo Ovviamente non qua L'unica soluzione È sventrarlo E buttare via tutto Facciamo un po' di spazio Abbiamo Il libretto Delle istruzioni Allora Andiamo a vedere Cosa c'ha scritto Immerciti nel mondo Toon Attivandolo il prima possibile Hai vari modi Per cercare direttamente Nel tuo deck Fogli illustrativo Toon Toonstratos Ottivando Regno Toon Che diventerà Una nuova versione Del mondo Toon I mostri Toon Sono molto potenti E possono essere evocati Specialmente tramite I propri effetti Quando hai tre mostri Sul terreno Sacrificali Per evocare specialmente Il mostro più forte Del mazzo Obelisk il tormentatore Toon Con polimerizzazione Toon Puoi Ecovare Ecovare Eh Mirko Non ci siamo eh I tuoi potentissimi Mostri fusione Vabbè Diciamo che gliela facciamo passare Perché comunque Qualitativamente È incredibile Cioè La carta per Gli strutture È la stessa Anzi È più spessa Rispetto a quella di Konami Cioè Non per niente Lui collabora con Konami Vabbè Adesso andiamo a vedere le carte E capiamo Quali sono Gli artwork esclusivi E tutte queste belle cose Allora abbiamo Obelisk il tormentatore Adesso vediamo qual è l'effetto Tanto per capire un po' Come funziona il masso Non può attaccare il turno In cui viene evocato Mentre controlli mondo Toon E il tuo avversario Non controlla mostri Toon Questa carta può attaccare Il tuo avversario direttamente Richiede tre tributi Per essere evocato normalmente Non può essere posizionato normalmente L'evocazione normale Di questa carta Non può essere annullata Quando viene evocato normalmente Carte ed effetti Non possono essere attivati Non può essere bersagliato Da carta magia Trappola O da effetti di carte Puoi offrire come tributo Due mostri Distruggi tutti i mostri Controllati dal tuo avversario Diciamo è Più o meno L'effetto classico Di Obelisk Comunque ragazzi Una cosa particolare È la firma di Mirko Nella carta Qua giù in basso Ovviamente come possiamo vedere Nelle carte Ufficiali Gli api dove c'è la firma Di Kazuki Takashi Poi abbiamo Slifer Il Drago Toon Molto bello Dragolato di Rattoon Vabbè queste Ovviamente L'ho già vista su Instagram Però come sempre Sono bellissime Soprattutto dal vivo Poi Stratos Hero Toon Molto bellino Probabilmente Questo si arcia Una carta Toon Sì Ovviamente Ah Ne abbiamo più copie Ne abbiamo due Ok Poi abbiamo Uomo alato Della fiamma Eroi Toon Gigante del tuono Eroi Toon Jubel Toon Che è Bellino Ma Non è tra i miei preferiti Preferisco molto Di più gigante del tuono Poi abbiamo Jubel Terrore incarnato E Incubo finale Ragazzi Questo Questo è proprio Uno spettacolo Questo è incredibile Questo è veramente bello Poi abbiamo Cannone Drago Toon Anche questo Incredibile Drago Cyber Finale Toon Poi Maestro del terrore Eroi Toon Eh La consistenza della carta È quella di una carta di Jubi Quasi che potrebbe essere Una carta vera Diciamo che Un po' il colorito È differente Ma Nel pratico Il materiale è quello Poi abbiamo Dogma Eroi Toon Plasma Che questo è tanta roba Malicious Bane Ovviamente ragazzi Tutte carte in prima edizione Cioè Ne vogliamo parlare Non mi arriva la seconda Ne invia la prima Poi Dragone del destino finale Toon Il Drago Polvere di Stelle Che ovviamente Non è più generico Poi abbiamo Drago Arcobaleno Toon Toon Jinzo Che cita una carta Jinzo Ma non ricordo quale Forse usciva in LED Se non sbaglio O una roba simile Poi abbiamo Zeus Incredibile Poi abbiamo Access Code Però Nel senso Dove stanno le carte del main Dragone Nero Occhi Rossi Toon Poi Hellicene Best carta preferita Ovviamente questa Non sta a 80 euro Perché ovviamente È la versione comoda Non è la versione secret Da Cecil Poi abbiamo Ragazzi Ragazzi Guardate quanto è bello Kaius Mi ricorda molto Il Kaius Piccolino Che si trovava Nello strutturo Non so se ci ha fatto apposta Ma potrebbe aver preso Ispirazione da quello Poi abbiamo Vabbè Granma Che è venuto benissimo A parer mio Mobius Anche questo Incredibile Ryza Stessa cosa C'hanno più o meno Lo stesso modello Di base Poi Testalos Che è quello Un po' Un po' più me Però carino il fatto Che sembri arrabbiato E diciamo che Il fuoco è sempre associato All'Ira Quindi Ci sta Bella come idea Zarborg Sì Il più bello Forse Testalos Poi abbiamo Giovane Maganera Cavaliere del Drago Toon Un po' Il testone Il drago Vabbè Questa è incredibile Questa è bellissima Mamma mia che tette che c'ha Incredibile Mirko Voglio Voglio Su Whatsapp La versione senza censure Per forza E poi ci facciamo Un 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 Don Jinshi Sulla Maganera Per favore Ne ho bisogno E non sto scherzando Poi abbiamo Cavaliere del Jack Toon Forse mi inquietano un po' Questi occhioni Ecco già La regina Toon Non ce l'ha E secondo me Rende molto di più Cavaliere del re Questo c'ha gli occhi da mosca Cazzo Mi è uscito sminta Porca droga Tocca trovare un altro E sostituirlo Poi abbiamo Kaiser La bestia Toon Poi abbiamo Vabbè Dark Law Che io sono innamorato Dessa carta Poi abbiamo Mondo Toon Che vabbè Secondo me È la carta che Gli è fondamentalmente Riuscita meglio O almeno Tra le migliori Poi Regno Toon Che vabbè È molto simile Alla carta Che già esiste Ah Più copie Bene Ne abbiamo tre Poi abbiamo Foglio illustrativo Toon Ne voglio tre almeno Mi sembra Necessaria Avidità Toon Scarto una carta Toon Piesca due carte Follia Anche questa Secondo me è spettacolare Però non capisco Ah ok C'ha In bocca La carta di Yubel Poi Abbiamo Vabbè Più copie di avidità Poi Polimetizzazione Carino il fatto che Ha rifatto l'artwork Con Le creature in versione Toon In tre copie No in due copie Poi Vabbè Abbiamo giudizio Toon Che è Bellissima Lei è una fregna incredibile Mi ricorda la fidanzata di Dario Mirko Questa è Agnese Questa è Agnese Dai Dicelo Questa è Agnese Poi vabbè Abbiamo No due copie di giudizio E credo No abbiamo due carte Abbiamo buco e trappola senza fine Toon Quando il tuo avversario evoca Uno più mostri Con 1500 più di attacco Quando controlli un mostro Toon Bandisci tutti i mostri Che il tuo avversario controlla C'è una piccola limitazione Che non mi convince Vabbè Abbiamo due Ottomans E basta Ragazzi Non serve che ringrazio Mirko Perché Mi ho appena mandato un audio Spero che ha capito Che mi è piaciuto Ma Dopo Vedrà il video E Capirà Ovviamente Se volete seguirlo Vi lascio su Instagram Qua sotto in descrizione Mentre Se volete acquistare Questo E tutti gli altri prodotti Che ha fatto C'è sempre Instagram Mi basta quello Detto questo ragazzi Un bacione State me easy E noi ci rivediamo Prossimamente Sempre qua Con un nuovo video Ciao